Piana fiducia nell'esito delle urne in Toscana, è quella che ripone nei candidati a sindaco dei vari capoluoghi il leader della Lega Matteo Salvini a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Quegli stessi capoluoghi che in qualità di ministro delle infrastrutture sta toccando più volte. A creare qualche grattacapo in più è casomai proprio Siena dove il ballottaggio è pressoché certo. Mi aspetto una grande soddisfazione, ieri sono stato a Pietrasanta dove si può vincere al primo turno, a Massa dove si può vincere al primo turno, sono stato a Pisa di recente dove si può vincere al primo turno e conto che ci sia... a Siena difficilmente qualcuno vince al primo turno anche perché ci sono più candidati che i cittadini però conto che si arrivi al ballottaggio. La scelta della candidata a sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio ha avuto un iter abbastanza complesso ma è Salvini a tirarle la volata finale elogiando la sua volontà di mettersi in gioco. Ho ringraziato Nicoletta per lo spirito di servizio alla città perché da insegnante di una settantina di adolescenti e di quasi maggiorenni e dalla sua contrada arrivare a prendersi cura dell'intera città è un passo anche per la vita privata, impegnativo però, è una persona in gamba, determinata, coerente, con le idee chiare quindi contiamo come lega e come centrodestra con Nicoletta Fabio di arrivare al ballottaggio non so con chi, non ne ho idea, sono molto curioso e poi ci rivedremo prima per il ballottaggio e poi per il palio.